Musica Cittadino Friends, questa sera siamo ancora una volta ad Ariano e Rupino siamo insieme agli amici di Babbo Natale, gli aiutanti di Babbo Natale e chiaramente il popcorn non può mancare questa è una delle tante serate che avremo in itinere fino al 6 gennaio adesso cercheremo di intervistare, di mandare dei saluti un po' all over the world in tutto il mondo, mentre io mangio i famosi popcorn ad Ariano si chiamano Scalacopole, ciao Silent night, holy night All is calm, all is bright Vi avevo promesso che questa sera, cari bambini, avremo parlato con Babbo Natale, Santa Claus, come sta? Sono abbastanza bene, mi mantengo in forma Tutti questi bambini, una bella serata? Sì, sono venuti tanti bimbi a salutarmi, a chiedere dei regali la maggior parte dei regali sono tutti ciccio bello Ciccio bello, intanto vogliamo fare un augurio a tutti i bimbi del mondo Do i grandissimi auguri da Babbo Natale a tutto il mondo saluto anche i pocarelli, gli orfanelli chi mi sente, auguri buon Natale Tanti auguri! Auguri buon Natale! Saluto anche i bambini Holy night Saluto anche i bambini Saluto anche i bambini Saluto anche i bambini Saluto anche i bambini Auguri di Natale Agliosa, questa sera abbiamo un personaggio in compagnia, in splendida compagnia Allora, Umberto Finelli, un bel augurio natalizio a chi vuoi, come vuoi e quando vuoi, anzi adesso Adesso auguri a tutti gli amici di Ariano e dell'Irpinia, ma a tutti gli amici, a tutti Tutto il mondo che devono impegnarsi a passare un Natale sereno, prima di tutto in famiglia e con le persone che ci vogliono bene La serenità è il filo conduttore dell'amico Umberto Finelli, graditissimo, grande DJ, parliamo un augurio natalizio da parte di una bella donna Auguri, buon Natale, un sereno Natale a tutti Auguri anche a voi, grazie Lei, lei, allora, un bel pensiero di Natale, chi lo vuole, ma magari anche in un'altra parte del mondo, non sia un parente o chiunque Le lascio per 30 secondi No, me ne ho passato 20 secondi Chi te l'ha fatto? Una signorina, un elpo Chi è stato che ti ha fatto questo trucco così bello? Buon Natale Ti voglio bene, ciao Continuiamo con gli auguri natalizi, amici di Città Ariano Abbiamo trovato una giovane coppia che di tanto in tanto torna Torna le radici e torna a Ariano, come va ragazzi? Tutto bene? Va benissimo, quando si torna al proprio paese è sempre con tanto piacere Sempre una bella emozione È vero, sempre bello rincontrare i vecchi amici, salutare tutti, è bello Bene, detto questo, adesso vi lascio per 20 secondi il microfono e augurate un buon Natale a tutti quanti Tanto non tagliamo nulla, dai Buon Natale Niente, auguriamo buon Natale Buon Natale a tutti A tutti indiscriminatamente Ricco di affetti familiari, di cose buone da mangiare e un buon anno pieno di novità I nipoti, cosa vogliamo dire ai tuoi nipoti? Gli auguro tutto il bene del mondo Tutto il bene del mondo e continuiamo anche la signora Signora, vuole salutare qualcuno anche all'estero? Uno zio? Un parente? Chi vuole salutare? I miei zii, saluto tutti Che sia un Natale segnale per tutti Grazie Continuiamo con gli auguri qui dal centro storico di Renaner Pino Tutto in festa, vetrine aperte, Santa Claus Ci sono delle belle ragazze Allora, vogliamo salutare qualcuno Farò gli auguri di buon Natale a tutti Come lo facciamo questo augurio, dai Inventiamoci una cosa, tutti insieme Venite qua, venite qua, venite qua Allora, un bel buon Natale a tutti Dai, come vi va? Forza, uno, due, tre Auguri di Natale Beh, insomma, poca fantasia Salutiamo gli amici che magari sono... Un qualche amico che non è qui Qualche amica che non è qui Ce n'è una fuori C'è un'amica, che ne so, in Venezuela Ce l'ha un'amica in Venezuela? Non ha un'amica in Venezuela Noi salutiamo, grazie a voi Gli amici di Cardito Non molto lontani Ci salutiamo, grazie a loro Tutta la gente del Venezuela Va bene? Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti